Prima di rinnovare i contratti dei dipendenti regionali era necessario procedere alla riqualificazione del personale. Lo sostengono i sindacalisti Dario Matrang e Marcello Minio del Coba Scodir, Fulvio Pantano del Sadir, Sangelo Locurto e Giuseppe Battaglia del SIED CSA CISAL. Una presa di posizione è arrivata dopo che il 16 giugno scorso il governo regionale ha dato disposizione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della regione Sicilia di procedere al rinnovo del contratto senza la riqualificazione del personale. I sindacati sostengono che così facendo l'esecutiva dell'isola è andato anche contro una precedente delibera in cui era appunto prevista la riqualificazione del personale.